Bene amici di Youtube, oggi mi fa la compagnia Samsung Galaxy S2 in questa video recensione. Un dispositivo che nasce nel lontano 2011 ma abbandonato da Samsung per quanto riguarda gli aggiornamenti di sistema circa due anni dopo. Ma oggi, grazie a Modic e grazie al team di sviluppo CyanogenMod 13, può bantare dell'ultima distribuzione Android Marshmallow 6.0.1. Ma andiamo a vedere subito quali sono le novità. Amici di Youtube, ecco qua, siamo su Galaxy S2. Voglio subito dirvi che le novità non sono tante su questo dispositivo ma andremo a focalizzarci su tutte le nuove novità che il team di sviluppo ha inserito in questa ultima release, ovvero vale a dire CyanogenMod 13. Come tutti sanno è basata sulla 6.0.1 di Marshmallow. Ma detto questo andiamo subito a vedere le informazioni di sistema del dispositivo. Vi faccio subito notare le info sul dispositivo. Ed ecco qua, 6.0.1 di Android, versione CyanogenMod installata proprio questa mattina 4 marzo 2016 e sta stressando da stamattina il dispositivo. Oltre a questo, al suo interno troviamo anche le ultime patch di sicurezza che risalgono al 1 febbraio 2016 integrate da team di sviluppo. Ma andando avanti, se andiamo a vedere gli aggiornamenti, qui li possiamo, come ci ha abituato il team di sviluppo nelle precedenti release, possiamo scegliere noi il momento, il tempo in cui ci deve arrivare la notifica. Io per esempio clicco due volte al giorno, in modo tale che se ci sta qualche aggiornamento mi viene notificato due volte al giorno. Ma andando avanti, andiamo subito a vedere le novità che sono state integrate in questa ROM. Partendo dal pannello dei quick settings, perché quello che interessa maggiormente, come potete vedere, cambia un pochino l'aspetto. Qui troviamo i tre puntini e ciò vuol dire che il pannello dei quick settings è paginato. Quindi, se noi andiamo, per esempio, cliccando sulla voce modifica tile, ci troviamo subito questa voce e premio e trascina i tile per riordinarli. Premendo sulla più, qui vedremo una serie di tile che noi possiamo aggiungere alla tendina dei quick settings. Io non ne ho nessuna perché li ho impostati già tutti a mio piacere. Ma detto questo, una volta fatto fine, io, sempre con la modifica inserita, posso spostarli anche di posizione. Una volta che abbiamo scelto la posizione preferita, clicchiamo su fine e si rimangono in quella posizione dove noi l'abbiamo messo. Ma ancora una cosa, troviamo un'ulteriore opzione chiamata caffeina. Essa si è cliccata, si attiva un timer di 5 minuti e automaticamente il display dopo 5 minuti va in blocco. Ok, adesso la togliamo perché non interessa la voce. Come avete visto già prima, il menu rimane invariato. Per quanto riguarda le impostazioni rimangono anch'esse invariate e quindi nulla cambia rispetto alla versione 12.1 basata sull'Hollipop. Ritorniamo indietro e andiamo a vedere l'area dei messaggi, quindi il comparto dei messaggi che l'applicazione rispetto alla precedente abbiamo uno stile più material design e completamente ridisegnata. Ritorniamo indietro, parliamo del browser web, lo tengo già aperto ma ricarichiamo subito la pagina, ecco qua, lo teniamo anche già in versione desktop ma andiamo a ricaricare la pagina. Non è che sia molto molto fulminia il caricamento delle pagine ma è abbastanza veloce. Segue il pincio di zoom delle mie dita, cliccato due volte abbiamo l'ingrandimento sul test che noi abbiamo cliccato e cliccando due volte sullo stesso testo ritorna la pagina indietro. Quindi sia in modalità desktop che in modalità mobile la navigazione è abbastanza veloce e fino ad adesso non ho riscontrato problemi. Quindi da dire che la ROM, l'ultimo aggiornamento rilasciato di stamattina, lo sto stressando per essere precisi, dalle 6 di stamattina e non ho riscontrato alcun problema in questi compatti qui. Quindi per quanto riguarda i cambiamenti che sono stati apportati al menu dei quick settings, per quanto riguarda l'opzione dei messaggi browser, adesso vi faccio vedere per esempio il task manager. Apriamo un'altra applicazione, anche qua nel dialer telefonico nulla cambia rispetto alla precedente versione, quindi rimane anche esso invariato. Vi facciamo consenti, ora vi faccio vedere il task manager, ovvero quella parte del telefono dove stanno racchiuse tutte le applicazioni in background. Ecco qua. Chiudiamo qua e basta cliccare sul pulsante e tutto viene chiuso. Ma parlando dei drawer delle applicazioni, anche esso viene riordinato sia in ordine alfabetico, ma abbiamo un'ulteriore opzione integrata, ovvero la barra di ricerca direttamente per quanto riguarda il browser delle... Scusate, per quanto riguarda i drawer delle applicazioni, per esempio se io vado a ricercare una certa applicazione, come possiamo vedere, la troviamo già qui aperta. Per quanto riguarda le opzioni del drawer e della home del dispositivo, li troviamo qui. Impostazione drawer, compatto, magari l'ho messo adesso per sezioni, vedete? Me lo mette sezione per sezione e in ordine alfabetico, mentre invece se metto in ordine compatto, esso cambia e diventa un'unica pagina con scorrimento verticale. Ma detto questo, torniamo un attimino nel menu della schermata. Allora, tipo di scorrimento orizzontale, qui possiamo anche mettere tipo di scorrimento verticale, e qui le app le abbiamo con le pagine, scorrendo le pagine verso sinistra. Ritorniamo indietro, andiamo nuovamente nelle impostazioni, qui possiamo attivare e disattivare la barra di ricerca nel drawer. Adesso se la disattiviamo nel drawer la barra di ricerca non compare più. Dato che a me risulta molto comoda, la vado di nuovo a riattivare, ed eccola qui che ricompare. Quindi queste sono un po' tutte le novità che Team di sviluppo ha integrato. Possiamo scegliere di mettere sia le icone grandi e sia le icone piccole, ma questo era già presente nella precedente release. Ecco qua, qua abbiamo la schermata della home. Se noi abbiamo installato la ricerca Google, se clicchiamo su questo toggle, andiamo ad attivare la barra di ricerca sulla home. Abbiamo la possibilità di visualizzare i nomi delle applicazioni che stanno sulla home e qui per esempio possiamo scegliere come vaccinare le nostre app sulla home. Io ho scelto 5x5 e se andiamo sulla home infatti posso scegliere di mettere in griglia 5 applicazioni per 5. Inoltre nelle applicazioni per quanto riguarda la schermata home abbiamo l'opzione consente di rotazione che se ritorna alla home, vedete, si mette in modalità orizzontale. Quindi per chi non ha fastidio sulla cosa la può attivare, a me sinceramente da un po' fastidio la vado a disattivare. Ma adesso andiamo a parlare di una cosa di cui ho riscontrato un problemino che mi ha dato leggermente fastidio. Parliamo della fotocamera. Purtroppo la fotocamera da stamattina che tengo il dispositivo in prova con l'ultima release ho riscontrato un piccolo bug, ovvero la messa a fuoco è un po' pigra. Quindi dobbiamo tappare sul display più di una volta per mettere a fuoco. Ecco, come potete vedere, ho cliccato già varie volte sul display per mettere a fuoco il soggetto. Allontaniamoci un pochino. Vedete? Non riesce a mettere subito a fuoco ma bisogna tappare varie volte prima di scattare la foto. Se stiamo scattando una foto in primo piano. Proviamo di nuovo ad allontanare il dispositivo. Nulla da fare, vedete? Non riesce a mettere a fuoco in nessun modo. Clicchiamo di nuovo un ulteriore... ecco qua. Nulla da fare. Quindi se io vado a scattare, per esempio, delle foto in lontananza, esse vengono scattate bene. Ecco qua. Diciamo vengono scattate abbastanza bene. Questa è una macro che ho scattato prima o avrò tappato sul display più di una ventina di volte per fare questa macro. Ma spero che il team di sviluppo risolva presto questa cosa. Altrimenti, anche se noi andiamo ad installare un'applicazione fotocamera secondaria da Play Store, ci ritroviamo con lo stesso problema della messa a fuoco. Quindi, come vi ho già detto, rispetto alla precedente release, nulla cambia. Siamo su un Galaxy S2, può bandare dell'ultima versione Android Marshmallow basata sulla 6.0.1. Per questo video è tutto. Alla prossima. Come avete visto alla recensione, per quanto riguarda la Cyanogen Moto 13 non ha avuto sostanziali cambiamenti. Anzi, se non per qualche sezione della ROM. Per quanto riguarda i Quick Settings, il pannello delle notifiche dove possiamo riordinare i Quick Settings un po' come vogliamo, i messaggi, l'area dei messaggi ridisegnata, il menu rimane invariato. In base a questo, voglio dirvi che la ROM per uso quotidiano è abbastanza fluida e buona, quindi non troviamo problemi, se non per quanto riguarda la fotocamera, come già vi ho detto nella recensione. Spero che il team di sviluppo vada a correggere questo bug nella ROM, perché è l'unico bug che ho riscontrato, anche perché se noi andiamo ad installare un'applicazione fotocamera anche dal Play Store, ci rimane comunque il problema. Quindi, spero che vadano a risolvere questa cosa, anche perché la ROM, per quanto riguarda il modding e il dispositivo, risulta molto valida e molto fluida nell'uso quotidiano. Per YouTube, Raffaele Mauriello. Grazie a tutti.